Rino Gaetano con Gianna, le 8.06, il nostro Crystal History di giornata. Non abbiamo, e non c'è una canzone che dice Tamara, non lo so, chiediamola a lei. Tamara Malleo, buongiorno! Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Crystal Radio di Good Morning Milano. Diciamo così, ormai buon quasi fine settimana. Sì, sì, settimana santa, così la chiamano, detto di dire così. Ma ascolta, ma non c'è una canzone che dice Tamara, davvero? No, c'è una canzone, adesso però me l'hanno cantata, nel senso che... Allora, no, 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 fermi tutti, quando è che hanno fatto la serenata cantando di Tamara? No, siccome, come tu ben sai, lavoro in una televisione che si occupa anche di canzoni popolari, e allora uno degli ospiti che era presente ha detto che c'è una canzone in cui c'è Tamara e me l'ha anche cantata, ma degli anni, credo, 30-40. C'è una marcetta del ventennio, una roba del genere, non vogliamo indagare a questo punto. No, è una canzone di altri tempi. Ah, ok, ok, perfetto. Come faceva, come faceva, te la ricordi? No, no, no. Ah, peccato. Poi, meglio non sentirmi cantare. Volevo far cantare Tamara Mallea, volevo far cantare Tamara Mallea, passavamo dal teatro al musical in un attimo. Tamara, allora, dove ci porti questa settimana? Allora, parliamo. Potrebbe essere, pensa, Tami, potrebbe essere l'inizio della canzone. Tamara, dove ci porti questa settimana? Vedi? L'abbiamo già fatto la prima strofa. Benissimo, ma guarda, l'hai fatta apposta. Prima strofa già fatta, prego. Adesso parliamo di cose serie, vai Tamara. Allora, vi parlo di un luogo che ho scoperto ieri sera, perché sono andata a vedere uno spettacolo che era in data unica di un'attrice meravigliosa che si chiama Valeria Perdonò, che è uno spettacolo che lei porta in giro da tantissimo tempo, che si chiamano Amorosi Assassini, si parla di violenza, si parla di donne, ma si parla soprattutto della nostra capacità di chiudere gli occhi davanti a quello che vediamo. Quindi è uno spettacolo che scuote un po' le coscienze per evitare di far finta di nulla. Ma questo spettacolo, e quindi il consiglio di seguire Valeria Perdonò, ma questo spettacolo si, diciamo così, era ospitato dalla Corte dei Miracoli, che è uno spazio, un'associazione culturale che si trova in via Mortara. Siamo in zona Navigli, si arriva con la metropolitana verde fermata a Porta Genova o con il 9, o con, insomma, ci sono tantissimi mezzi che arrivano in quella zona. E Corte dei Miracoli, che è un'associazione culturali di giovani ragazzi e ragazze che si occupano di creare appunto un movimento culturale in quella zona. Ci sono delle serate dedicate al cinema, ci sono delle serate dedicate al teatro e nei prossimi giorni ci saranno delle serate dedicate alla musica, soprattutto jazz. Quindi un luogo dove si mangia, si beve, ma dove si può appunto condividere dell'arte, quindi una serata da passare attraverso le arti che ci portano in mondi, insomma, colorati, diciamo così, di colori diversi, di note diverse. Quindi Corte dei Miracoli, in zona Navigli. Io gli invidio tantissimo anche il nome, mi piace tantissimo, mi piace. Corte dei Miracoli è molto bella, sì. Anche perché spesso e volentieri lo usano per definire la nostra redazione. Quindi spesso e volentieri dicono che questa Corte dei Miracoli invece in questo caso è una Corte dei Miracoli molto più artistica rispetto alla nostra. No, anche la vostra, è una Corte dei Miracoli piena di anime colorate, insomma, che si sforzano di portare colori e arte nel mondo. Ecco, parlando di arte, Tamara, mi scrivono al 3317853555 dove dicono Ranfi, canti benissimo, sembri il quarto del volo, quello che è stato scartato da piccolo. Quindi non so, grazie mille che non... Che però ha portato ad una carriera alternativa. Ah sì, può essere, può essere. Firmate i messaggi proprio perché non so chi li scrive, quindi firmatevi perché non... Grazie comunque, nel senso, va bene, me la segno a questo. La tua canzone è stata molto apprezzata. Grazie, grazie mille, grazie mille. Allora, dalla Corte dei Miracoli ci spostiamo a un altro spazio indipendente di cui abbiamo già parlato che si chiama Zia, zona appunto di arte indipendente che è gestita da un gruppo di attori, attrici, registi, registe indipendenti tra cui c'è Irene Serini e anche loro si occupano di teatro indipendente, di nuove drammaturgie, ma anche di musica perché nei prossimi giorni, in particolare il 6 di aprile, quindi la prossima settimana, ci sarà un evento che si chiama Effetto Notte, narrazioni musicali per scenari possibili e in questo caso ci saranno tre artisti e artiste, Giulia Bertazzi con la fisarmonica, Giulia Larvi con il violino, Stefano Fascioli col contrabbasso che ci porteranno in atmosfere cinematografiche attraverso appunto la loro arte con i loro strumenti per raccontarci anche quello spazio in cui le parole si fermano e la musica continua. Quindi in questo caso c'è una narrazione e questi spazi, diciamo così, tra virgolette alternativi di Milano ci portano a percorrere strade insomma meno tradizionali legate insomma alla narrazione tradizionale ma che ci possono portare a scoprire anche delle nostre passioni ancora non conosciute, quindi bisogna sempre portareci in zone, bisogna che noi stessi ci spingiamo in zone che non conosciamo proprio per scoprire qualcosa di diverso che ci appartiene oltre a già ciò che conosciamo che sicuramente deve essere nutrito. E' tutto il contrario di quello che fanno gli algoritmi e le varie suggestioni, basta fuori da quella roba lì, brava, 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 brava. Poi invece torniamo ad una forma, se così vogliamo dire, di teatro un po' più tradizionale perché torniamo al Teatro Litta che si trova in zona, anche questo, in zona metropolitana Cadorna e quindi in zona Corso Vercelli, sì, Corso Vercelli e il Teatro Litta ospita un regista che io amo molto artisticamente perché lo seguo da tantissimo tempo che si chiama Stefano Cordella che ha deciso di portare in scena le notti bianche di Dostoievski, quindi un grande classico e noi diremo, ah un'altra volta un grande classico così e invece no perché Stefano Cordella fa un racconto, diciamo così, delle notti di Dostoievski molto molto umano e chiaramente ci riportiamo alla storia delle notti bianche quindi di questo protagonista che nella sua solitudine inizia questo viaggio nel mondo dell'immaginazione, vaga nella notte cercando incontri che possano nutrire la sua fantasia ma il suo mondo è un mondo fantastico, quindi è un mondo comunque animato da tutto ciò che lui genera, non che la realtà genera. All'improvviso c'è questo incontro con questa donna che in realtà gli permetterà di uscire in qualche modo da questi schemi della sua mente che lui si è costruito e si renderà conto che la realtà è un'altra cosa, che la realtà genera in lui dei sentimenti, delle reazioni che non può contenere, che non può controllare e che in qualche modo lo portano lontano da tutto quel mondo che lui si è costruito. Devo dirti che chiaramente il grande classico letto di Dostoievski è sempre un grande classico e quindi è un piacere però Stefano punta moltissimo sulla parte emotiva quindi su uno scavo emotivo che ci permette di viaggiare all'interno della solitudine del protagonista ed è una solitudine che poi si scardina attraverso un incontro con un'altra umanità e quindi ci riporta anche all'idea che comunque siamo degli animali sociali e quindi abbiamo bisogno di relazione anche se quelle relazioni ci portano a sofferenza, ci portano comunque a metterci in discussione, ci portano in un mondo comunque sicuramente più faticoso di un mondo che ci costruiamo secondo le nostre definizioni. È uno spettacolo che sicuramente ci permette di fare un viaggio importante perché si parte da parole importanti che sono quelle di Dostoievski che però le atmosfere che costruisce Stefano sono sempre delle atmosfere molto emotive quindi entrano dentro un'affettività che ci coinvolge. Quindi questo a Teatro Litta. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Bene, allora Teatro Litta abbiamo fatto un po' il giro del Milano con tutti i vari teatri che ci hai presentato. Posso fare un'altra cosa? Prego, prego, fai quello che vuoi Tamara, io vado anche via, ti lascio tutto. Ciao, ciao, ragazzi, voi Tamara, prego. No, lo so, lo so che mi allargo sempre, però siccome i prossimi giorni potrebbero essere anche dei giorni di riposo per molti, volevo consigliare un'ultima cosa che mi ha colpito in questi giorni, una lettura che ho fatto e tu dirai pure quella, sì, pure quella, una lettura che ho fatto di... Allora, dici tutto tu, comunque volevo dirti che io non ho mai detto niente del genere, anzi sono felice di tutta questa cultura che porti qui, cioè... È un po' come il protagonista dei notti bianchi di Dostoievski, io faccio, di Ispo, faccio un po' così. Fatti la domanda e dati una risposta. Esatto. Valentina Barile ha scritto un libro che si chiama Restare vivi ed è un libro molto interessante perché parla dei popoli dell'Amazzonia, in particolare della Colombia, e lei è andata in Colombia, sostenuta da un'associazione di volontariato, per incontrare coloro che si occupano di questi territori e di uomini e donne che, mettendo in pericolo anche la propria vita, perché sono delle zone molto pericolose, controllate da, diciamo così, gruppi anche violenti, mettono a disposizione appunto la propria esperienza per poter creare delle situazioni in cui bambini, bambine, donne, uomini possano vivere, diciamo così, in un contesto accettabile. Detto questo, è molto difficile e lei questo viaggio l'ha fatto soprattutto incontrando le umanità, quindi le persone con le loro difficoltà, con anche le loro frustrazioni, con delle storie a volte difficilissime, perché sono storie anche di morti violente, sono storie di persecuzioni, però lo ha fatto proprio perché a volte noi chiudiamo gli occhi, è più facile su popoli lontani, che non conosciamo, però questo ci permette comunque di sensibilizzare la nostra persona nei confronti di situazioni anche a noi vicine, quindi è un modo per svegliarci da un'apatia sociale, che insomma in qualche caso ci spesso anzi si involge, quindi era per consigliarvi una lettura che può in qualche modo risvegliare la coscienza sociale. Insomma, molto interessante anche appunto i consigli di lettura di Tamara Malleo, insomma grazie davvero Tamara. Questa è una nuova casa editrice che si chiama Voods Edizioni, che appunto propone in questo momento pochi titoli. Come si chiama, scusa? Voods Edizioni. Voods, ok, Voods. Sì, sì, è nuovissima e appunto ci propone dei pochi titoli, ma che ci portano a conoscere la nostra umanità, anzi a discutere la nostra umanità. Bene, bene, grazie Tamara, allora grazie come sempre dei consigli, volevo darti questa notizia che ho scoperto mentre tu, ho scoperto di riuscire a fare due cose contemporaneamente, ascoltare te e fare una ricerca, sono riuscito finalmente a fare due cose insieme, mai riuscito in vita mia, invece pensa, ti rifori il meglio di me stesso anche, perché ho scoperto che nel 1972 un gruppo chiamato La Strana Società cantava una canzone dal titolo Nel Giardino di Tamara e faceva così. Nel Giardino di Tamara io piango Però piange, dice che nel Giardino di Tamara io piango, dice, non so che cosa gli hai combinato a questi poveri della strana società, però ecco. Eh, ma io sono sempre molto, insomma. Cerchiamola. Corrivo e distruggo qualcosa per rinascere. Tamara, che fatica però, cioè, mamma mia, cerchiamo, no, ragazzi, cerchiamo di, Di aiutare Tamara. Eh, ma io sono molto, cioè, quando arrivo, diciamo così, che porto un po' di scompiglio. Eh, cioè, a me, 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 a me. Tamara, allora dai, noi ci risentiamo settimana prossima, buone feste, saluti e baci, così in questi casi, va bene? Va bene, grazie a tutte e a tutti voi. Grazie mille ancora a Tamara Malleo, che per noi è il grande spettacolo del teatro, non solo, anzi, sai cosa ti dico, cara Tamara? Che tu sei il nostro grande spettacolo dopo il Big Bang. E andiamo con Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.